L'Europa centrale è interessata dall'espansione verso est dell'anticiclone delle Azzorre, su Sicilia e Sardegna ancora tempo instabile a causa della presenza di una depressione centrata sulla Tunisia che mantiene un flusso di correnti nord-orientali fredde in via di attenuazione. In Toscana sabato 23 marzo cielo ovunque sereno, venti deboli settentrionali con locali raffiche, mari calmi e poco mossi, temperature minime in calo, massime in lieve aumento con punte fino a 22-23 gradi. Anche sul territorio provinciale cielo sereno, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 5, massima 21 gradi, a Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 2, massima 24, a Via Regge sul litorale minima 6, massima 19 gradi. Domenica nessuna sostanziale variazione, con temperature in ulteriore lieve aumento.